Allora, questa sera facciamo un esperimento. Quindi nella prima... ciao Katia! Nella primissima parte vi spiego brevemente cos'è la coscienza cristica e come agisce e come funziona. Poi durante la live, quando ve lo dirò io, mi scrivete nei commenti una vostra situazione o un vostro... sì, una situazione che vorreste risolvere in ambito relazionale, spirituale, finanziario, di salute. Vi faccio vedere come agisce la coscienza cristica. Quindi io chiaramente vi faccio una sorta di aiuto, di regalo. Ecco, vi faccio un dono, ok? Dove cercheremo insieme di, diciamo, risolverlo, ok? Partiamo da questa parola, risolvere il problema, ok? In realtà poi vediamo che scopriamo una bellissima opportunità di evoluzione. però cominciamo così, perché tanto lo so che attualmente, ok, si vive per risolvere problemi, generalmente. Si vive per la sopravvivenza, no? E quindi sopravvivenza vuol dire sostanzialmente che è difficile che oggi una persona vive per godersi pienamente la vita. Sì, ci sono alcuni momenti, in altri momenti per la maggior parte viviamo per cercare di campare, cercare di andare avanti, cercare di sopravvivere. Vi faccio vedere che in realtà i problemi non esistono, e che sono derivati da una mancata coscienza. Quindi voglio anche dirvi una cosa in riferimento a questo, che la coscienza cristica va, diciamo, un po' a spazzar via tutte quelle cure, che possono essere cure spirituali, cure energetiche, cure mediche, cure finanziarie, ok? Di qualsiasi tipo. La coscienza cristica agisce su tutti i livelli, ecco perché si chiama coscienza cristica e non potrei chiamarla coscienza relazionale o coscienza finanziaria, ok? Perché in realtà è una parola che comprende tutto. Allora, la prima cosa è che cos'è la coscienza cristica? Allora, diciamo cosa non è. Allora, la coscienza cristica, diciamo che non ha a che fare con la religione cristiana, che in realtà la religione cristiana, seppur usa la parola Cristo, ok? Diciamo che ha portato gli esseri umani in un vicolo cieco. Cioè, l'energia cristica esiste veramente, no? La religione cristiana in realtà ha preso gli esseri umani e gli ha messi dentro una scatolina, dandogli ogni tanto dei biscottini dolci per tenerli buoni, però in realtà l'essere umano non sta scoprendo veramente che cos'è il Cristo e quindi la coscienza cristica, ok? E quindi diciamo che l'essere umano continua ancora oggi a sperare in un miracolo, in un salvataggio, no? Che arrivi, speriamo per fortuna, in un determinato momento della mia vita, speriamo che arriverà, se mi comporto bene. Questo è un po', diciamo, che è l'atteggiamento generale. Ma non riguarda solo la religione, è un atteggiamento comune, è una cosa che riguarda, c'è in tanti settori, ok? Invece la coscienza cristica ti fa diventare Dio sulla terra, sostanzialmente. Cioè diventi Dio in terra, capace di essere, fare, ottenere tutto ciò che vuoi. Capite bene che vuol dire quindi che chi ti insegna, chi ti trasferisce la coscienza cristica, ti sta connettendo direttamente con la tua fonte, cioè con Dio. Quindi non c'è più bisogno di intermediari. Quindi mentre la religione ha la pretesa, no? Il Papa ha la pretesa di essere un intermediario con Dio, chi ti aiuta ad attivare la coscienza cristica, sviluppare la coscienza cristica, in realtà ti sta dicendo non hai bisogno di nessun intermediario, cioè tu sei Dio, ok? In realtà questo era il vero messaggio di Gesù Cristo, che ovviamente è stato preso, distorto e manipolato per ragioni che in questo momento proprio ce ne frega a meno che niente, ok? Allora, la coscienza cristica come funziona? Allora, seppur questa parola può sembrare strana o può spaventare, no? Un po' come network marketing, no? Che è l'attività che io faccio e che voglio far fare ad almeno 3 milioni di italiani nel mio network. Sono parole che non devono spaventarvi, perché dovete approfondire i concetti di queste parole. Allora, coscienza cristica. Allora, diciamo che la coscienza cristica è uno stato di consapevolezza dove tu sai di essere connesso a tutte le cose, no? Quindi cosa vuol dire? Tutti noi qui dentro, che siamo in diretta questa sera, condividiamo almeno 3 sfere. Le relazioni, tutti. L'aspetto, il denaro, tutti quanti usiamo il denaro. E l'aspetto della salute, fisica, mentale, emotiva. Tutti noi, a tutti noi qui dentro, ci accomunano queste 3 sfere. Allora, la coscienza cristica come agisce? Molto semplice. Coscienza vuol dire consapevolezza, cioè io so. Ma non è un sapere intellettuale. È un sapere naturale, a prescindere. Una mamma non deve sapere di dover amare il figlio. Ne ha coscienza. Quindi la coscienza è una consapevolezza, che è diverso dalla conoscenza. Conoscenza, io ho imparato, ho studiato questa cosa qua, la sua memoria, a livello intellettuale. La coscienza è diversa. Per esempio, conoscere il sole. Leggi un libro su come è fatto il sole. Avere coscienza del sole è che tu vai e stai un'ora sotto il sole. Lì stai prendendo coscienza di cos'è il sole. Capite? Quindi la coscienza è un'energia che tu vivi. La conoscenza è una cosa che impari a livello intellettuale. Sono due cose diverse. Una cosa può aiutare l'altra? Sì, certo. Perché io posso avere coscienza dell'amore, ma non sapere che si chiama amore. Quindi la conoscenza va a rafforzare la mia coscienza. La conoscenza può introdurmi al mondo della coscienza. Sicuramente la cosa più importante è la coscienza. Perché è quello che ti fa fare l'esperienza. Quindi sapere di essere Dio, ma non farne esperienza, è come non saperlo. Io sono amore perché l'hai studiato, l'hai letto in un libro. Ma quello è una conoscenza. Sperimentarlo, viverlo, esercitarlo, quella è coscienza. Allora, la coscienza cristica è la coscienza sostanzialmente che avrebbe Dio. Ora, la nostra unica salvezza è divenire Dio in terra. Non c'è un'altra strada. È l'unica salvezza che abbiamo. Con tutto quello che sta accadendo e capitando, o non accadendo, l'unica strada è divenire Dio in terra. Cioè tu, essere umano, decidi di divenire Dio. Cosa vuol dire divenire Dio? Ma semplicemente Dio soffre? No. Dio è ricco? Sì. Dio vive nell'amore? Sì. Dio vive in vita eterna? Sì. Se io non vivo queste cose, vivo il contrario, giusto? Quindi se non sono ricco sono povero, se non sono amato sono odiato, se non sono in salute sto male, se non sono vivo sono morto. Ok? Quindi non c'è un'altra strada. Ecco, a che cosa? Alla felicità. Qual è l'unica strada per essere felici? Divenire Dio sulla terra. Non ci sono altre strade. Seppur c'è una confusione generale tremenda su... Tutti stanno cercando la felicità, no? In qualche modo. Ma in realtà la strada è solamente una. Ed è semplicissima. È questa. Accettare di essere Dio. Che è la cosa più elevata che esista. Ovvio che qui si aprono poi tanti dibattiti, tante cose, perché chiaramente per il religioso questa è una bestemmia, no? Per altri è difficile pensarlo. No, ma forse è meglio trovare delle strade un po' più alla mia portata. Alla mia portata di chi? Tu sei Dio, quindi devi solo accettarlo. Questa è l'unica strada. Questa è la strada che io sto percorrendo. E in realtà effettivamente ho capito che l'unica mia salvezza, chiaramente non arriva dall'esterno, ma è accettare di essere Dio. Cosa vuol dire accettare di essere Dio? Collegandoci le nostre tre sfere, amore, salute e denaro, accettare di vivere pienamente queste tre cose. Quindi prima lo accetto, quindi diventa uno stato di coscienza, una consapevolezza, un credo, e poi diventa una realtà materiale. Quindi prima è un'esperienza spirituale, dentro, interiore, diciamo così. Poi diventa un'esperienza fuori. Noi abbiamo un mondo dentro e un mondo fuori. Allora, la coscienza cristica non riguarda solamente, perché molti pensano, coscienza cristica, boh, cosa vuol dire? Che credo nella sfera spirituale, che non vuol dire niente in realtà, no? La coscienza cristica è una cosa molto più concreta. Quindi è la consapevolezza di essere amore, quindi vivere l'amore, quindi essere amati, e la consapevolezza di essere ricchi, e la consapevolezza di essere la vita eterna. Quindi la coscienza cristica non si aggrappa solamente a un qualcosa o a una cosa in particolare. Lui è la coscienza cristica, vuol dire che lui è uno che frequenta la religione, quindi lui è la coscienza cristica. In realtà i religiosi hanno tutto tranne la coscienza cristica, perché sono stati appunto manipolati e deviati, no? Quindi la coscienza cristica in realtà è fuori dalla chiesa, ok? La coscienza cristica è nella vita quotidiana, è nella nostra vita reale, concreta. Quindi quando io dico o lamento il fatto che, o soffro il fatto che quella persona ce l'ha con me, quella persona mi ha lasciato, quella persona mi odia, oppure io odio quella persona, le persone sono cattive, le persone sono malvagie, oppure sono senza soldi, non so come far arrivare a fine del mese, e soffro di questo, non è che è sbagliato avere pochi soldi, ma è come tu ti comporti con dei pochi soldi, che determina poi il tuo futuro. Quindi ho pochi soldi, ho poco tempo, come faccio? Non ce la farò, sono povero, sono povera, morirò, devo prendere una medicina, perché se non prendo la medicina poi sto male fisicamente, quindi hai paura di soffrire, ok? Queste cose, questi sono i sintomi di una coscienza separata. Cosa vuol dire separata? Separata dalla salute, dalla ricchezza e dall'amore. Quindi si dice coscienza separata, coscienza anticristica, che in realtà è una non coscienza. Quindi il diavolo è colui che divide, quindi quando tu lamenti il fatto che hai pochi soldi, ti stai separando dalla ricchezza. Cosa vuol dire? Che il diavolo sta agendo in te. Cioè tu in quel momento è come se avessi la coscienza del diavolo, ok? Quindi non dovete pensare che il diavolo sia un mostro cattivo, è un nostro atteggiamento, così come essere in Cristo è un atteggiamento, ok? Molto importante è questo da capire, perché questo ci permette di fare veramente il salto di qualità e non creare sempre questa roba, questa cosa separata tra noi, i film, noi, la religione. Cominciamo ad argomentare su queste cose e portarle su un piano concreto, ok? Quindi quando io ce l'ho con qualcuno, o credo che qualcuno ce l'abbia con me, o comunque quando io soffro di cattive relazioni, sono separato dall'amore. Quindi io ho una coscienza diabolica, ok? Quando ho paura di morire, quando quindi faccio di tutto per salvare il mio corpo fisico, vuol dire che non ho la consapevolezza della ricchezza e quindi sono posseduto da una coscienza diabolica. Mi rendo conto che queste parole possono essere forti, però amici miei, se non ne prendiamo coscienza, se non c'è qualcuno che finalmente in Italia dice queste cose, è difficile che ne usciamo. Da che cosa, Isaia? Io penso che in Italia non stiamo attraversando un buon momento, ok? A livello di coscienza, quindi spirituale, e quindi poi a livello materiale. E' tutto legato a questo, ma legato solamente allo stato di coscienza. Detto questo, quindi, di questa cosa poi io penso sicuramente che da qui ai prossimi anni ne parleranno in tanti, me lo auguro di cuore, perché tanto tutto parte da qui, anche perché questo ragazzi, era quello che l'uomo più potente della terra, che è nato, che era Gesù, era esattamente quello che lui voleva trasmettere. Quindi lui era in Cristo, lui era capace di fare qualsiasi cosa, ok? La sua morte è stata voluta da lui, ovviamente, perché semplicemente lui era arrivato per dare un messaggio, ok? Per poi tornare. Ma lui era già capace di fare tutto, era capace di guarire, era capace di guarirsi, ovviamente. Era un uomo libero, lui era ricco, quindi non è che andava a fare lo schiavo per qualcuno, giusto? Infatti lui diceva, lascia tutto e seguimi. Cosa vuol dire? Lascia le tue credenze, lascia il tuo lavoro da schiavo, seguimi nella coscienza cristica. Quindi lascia la Matrix, entra con me, seguimi nella verità. Punto. Quindi con tutte le, ad oggi le filosofie, tutti questi maestri che stanno scendo fuori ogni giorno, tutte queste terapie, tutte queste robe alternative. Ragazzi, io sinceramente la vedo molto più semplice la questione, la vedo quindi molto più potente, molto più risolutiva. Coscienza. Coscienza, cuore, amore. Coscienza, cuore, amore, coraggio. Punto. Io la vedo così. Ecco perché quando vedo oggi tutte queste filosofie, tutte queste terapie, tutte queste cure, tutte queste figure, tutti i dottori che ci vogliono tutti aiutare, io non la vedo bene questa cosa qua, perché vedo molto più, la vedo molto più semplice la questione. Ok? Quindi ragazzi, da qui in avanti, prima di spendere i vostri soldi, ok? E dare i vostri soldi in terapie, guru, formatori, dottori, provate prima da soli a sperimentare la coscienza cristica e poi mi dite. E poi mi dite, ok? È vero che anche io vendo delle cose, no? Io vendo una meditazione, vendo un'accademia. Cosa fanno queste cose? Esattamente questo, cioè ti aiutano a sviluppare la tua coscienza cristica, in modo che poi più avanti tu non hai bisogno di spendere continuamente soldi per cercare di salvarti, perché poi le persone alla fine fanno questo, no? Spendono soldi cercando di salvarsi. Speriamo che questo dottore, speriamo che questo psicologo, speriamo che questo terapeuta, che questo maestro mi aiuti. Vi dico una cosa ragazzi, se volete spendere i soldi, spendeteli per cose che vi fanno star bene. Spendeteli per esperienze. Ecco, una cosa bella è che se io potessi fare un'esperienza di piacere e nello stesso momento posso evolvere, ho fatto bingo. Perché sto godendo e nello stesso momento sto evolvendo. Quindi energia femminile ed energia maschile. Bene, io direi, passiamo all'azione. Facciamo un esperimento, non so cosa uscirà fuori, però vediamo. Però è una cosa che voglio fare, perché voglio, diciamo, aiutarvi. Anche perché ho capito che giustamente io posso anche parlare 14 ore della coscienza cristica, ma se non ve la faccio provare, magari diventa anche difficile capire cos'è questa cosa, no? Quindi la coscienza cristica, l'ultima cosa e poi iniziamo questo esperimento, questa esperienza, è la coscienza cristica come il sole. Infatti il Cristo è associato al simbolo del sole, non a caso. Ok? Perché, questa è una mia idea, l'energia cristica tu non la puoi studiare. Cioè, se tu non hai la coscienza cristica, no? E leggi un libro dove c'è scritto dettagliatamente che cos'è la coscienza cristica, è probabile che tu non la svilupperai mai. In realtà di cosa hai bisogno? Di uno che è in questa coscienza cristica, diciamo più di te, non deve essere per forza totalmente in Cristo, perché la coscienza cristica si sviluppa e si potenzia, no? Però quello che dovresti fare è frequentare qualcuno che ha questa coscienza cristica e assorbirla, non rubarla, assorbirla se lui decide di donartela, perché il trasferimento della coscienza deve essere un dono, ovviamente, no? Quindi, ecco, per esempio, la coscienza cristica non si può né studiare e non si può neanche rubare. Può essere chiesta, eventualmente, e chi è dotato di questa coscienza? perché è nato così, perché la sta sviluppando, quello che vogliamo, decide o non decide, perché se sente che tu sei pronto oppure no, di donartela, ok? Considerate una cosa, che chi è in Cristo è generalmente una persona piena di energia, piena di amore, e non vede l'ora di donare questa cosa. Però è anche vero che il Cristo, siccome lui ti vuole bene, sa anche che ti vuole far evolvere. Quindi sa anche che se tu la pretendi, lui ti vuole insegnare il fatto che tu non devi pretendere le cose. Quindi lui non te la dona a prescindere, capite? Il Cristo è un maestro in questo senso, cioè il Cristo in realtà ti insegna a vivere, ti insegna come approcciarti alla vita, ok? Quindi, da qui in avanti, adesso, iniziate nei commenti a scrivere un problema, una situazione che voi vorreste affrontare, o risolvere, e io vi faccio vedere come io intervengo, ok? E come insieme andiamo a risolvere quella situazione. Ora, non scrivete cose troppo lunghe, troppo lunghe, perché se no io faccio fatica a leggerle, scrivete un problema, una frase, insomma, e io vi aiuto. Così vi faccio capire in diretta come lavora questa coscienza. Io ho scoperto di avere questo dono, ok? Perché mi è successo quelle rare volte che io generalmente sono un insegnante, cioè sostanzialmente io vivo delle cose e condivido l'insegnamento. Inizio subito. Allora, voglio risolvere i conflitti con le mie figlie. Non le vedo da troppo tempo, grazie. Ok, Rose dice, Voglio risolvere i conflitti con le mie figlie. Non le vedo da troppo tempo, grazie. Ok. La coscienza cristica agisce così. Io ho un meraviglioso rapporto con le mie figlie. Ok. Passiamo un bellissimo tempo insieme. Quindi, Rose, scusami, ma io leggo qua Rose Axel, che non capisco che non è me. il problema è già risolto. Tu hai un meraviglioso rapporto con le tue figlie. Punto. Questa è la coscienza da dove adesso tu devi ripartire. Silvia dice, vorrei smettere di fumare. Io ho una salute perfetta. Mi amo e mi accetto così come sono. Coscienza cristica. Silvana dice, voglio risolvere con i miei. Io ho un bellissimo rapporto di amore e gratitudine con i miei. Risolto. Katia, ho affermato con coscienza la mia casa e dove io mi trovo. È per questo che oggi io ho mancanza di una casa? Ho affermato con coscienza la mia casa e dove io mi trovo. E non ho capito la domanda di farla. Quindi, amici miei, la coscienza cristica è un atto di amore che voi fate a voi stessi e quell'atto di amore diventa poi chiaramente una fede. Siccome io mi amo, io ho un bellissimo rapporto con le mie figlie. E questo è tu quello che avrai. Avete capito come funziona la coscienza cristica? Però, attenzione, amici miei, io in questo momento, Isaia, che sto facendo la diretta su Facebook, posso aiutarvi in questo modo. Perché? Perché io ho la coscienza cristica. se io non avessi la coscienza cristica, mi inventerei un tutt'altro tipo di terapia e non ha detto che quella cosa voi l'andreste a risolvere. ok? Questo, la coscienza cristica, è la via più veloce, più potente, per risolvere qualsiasi situazione. Ok? Tutta la nostra vita reale, materiale, la realtà che a noi ci circonda, è un riflesso del nostro stato di coscienza. Quindi è da qua che bisogna partire. Allora, Beatrice dice, ho sempre tosse da reflusso e sto male. Io sono in perfetta salute. Grazie infinite. Io ho una vita meravigliosa. Quindi, Beatrice, tu sei sana. Questo è il dono che io faccio a te. Tu sei perfettamente sana. Rosa dice, dobbiamo parlare sempre in positivo. Sì, nel senso che io sono salute, io sono in salute, io sono amato, ho fatto un bellissimo rapporto con le persone e sono ricco, sono in vita eterna. Non è neanche un'affermazione positiva, è una verità. Capite? Tutta la partita si gioca tra verità e falsità, luce e buio. Verità e non verità. Questa è la verità. Vi rendete conto quanto noi viviamo nella falsità e nella menzogna? perché siamo nati in questo mondo, amici miei. Non è colpa vostra. Ok? Diciamo che la colpa è vostra, eventualmente, se non credete a queste cose. Però in realtà neanche lì, alla fine, semplicemente non è il vostro momento. Ecco. allora, Katia dice, vorrei trovare una casa dove abitare. Ok? Io vivo in una bellissima casa. Io abito in una bellissima casa. Io vivo in una meravigliosa casa che amo. Sono grata della casa in cui amo. È bellissimo vivere in questa casa. La coscienza. La tua mente dirà, ma queste cose che stai dicendo non sono vere. E tu gli dici, eh, io vivo in questa casa proprio perché tu non ci credi. Cinzia dice, voglio che le persone malvagie lasciano in pace mio marito e me. Perfetto. Io ho un bellissimo rapporto con tutte le persone all'esterno della mia relazione di coppia. Le persone attorno a noi sono persone che ci vogliono bene e ci lasciano libere. Noi siamo persone libere. Noi siamo una coppia felice e libera e tutti ci amano. Coscienza cristica. Allora, Pasqualina dice, io faccio sempre queste affermazioni positive, ma tante volte le cose vanno storte. Bene. Allora, dovete capire, Pasqualina, tu devi capire che queste affermazioni non servono a risolvere i vostri problemi. Silvana dice, possiamo fare le affermazioni guardandoci allo specchio? Cioè, come volete voi. Spazio qui alla massima creatività. Queste affermazioni, amici miei, non servono a risolvere i vostri problemi. voi dovete godere mentre dite queste cose. Se non provate piacere nel dire queste parole, lo state facendo meccanicamente, solo perché avete dei problemi, ho studiato che le affermazioni mi cambiano la vita, allora lo faccio. no, amici miei, non funziona così. Dove dovete giocare con la vita? Questo è un gioco. Questo è un gioco. Quindi vi dirò di più, siccome è un gioco, io non vedo l'ora che arrivino le cose storte. Così gioco, mi alleno. Arriva la cosa storta, wow, mi alleno. Arriva una cosa brutta dalla vita, wow, perfetto, è il gioco, è la mia palestra questa. Sono un'anima, sono qui in palestra, sono in palestra, quindi devono arrivare delle cose che mi devono far male, perché devo allenarmi a essere Cristo. Tutto qua. Piera dice, ultimamente ho gli acufeni fortissimi che non mi fanno dormire, cerco di essere positiva. Stessa cosa, Piera, non cercate di essere positivi perché soffrite. Accogliete la sofferenza, ci parlate, la amate, la trasmutate. Non cercate di scacciarla, perché non è impossibile. La sofferenza non va scacciata, va trasmutata. Va trasmutata. Quindi io, quando ho un problema fisico, ragazzi, qualsiasi tipo di problema sia, prima cosa, non prendo alcun farmaco. Perché? Perché se il mio corpo mi sta dando quel segnale, lo sta facendo per il mio bene. Quindi io non devo combatterlo, non ci faccio la guerra. Lo accolgo e gli dico fai quello che devi fare. Tanto lo so che io sono qui per amare me stesso, gli altri e fare ciò che amo nella mia vita. Tanto lo so che è per questo, fare ciò che amo. Fare ciò che ama la mia anima. Quindi fai quello che devi fare. Io faccio sempre così, ragazzi. I dolori arrivano e se ne vanno. Quindi sempre atteggiamento di gratitudine, sempre. non creiamo la separazione, il conflitto col problemi economici, col problemi di salute. Se sono lì, meno male, ci stanno dando forse un messaggio. Durante la giornata faccio ciò che amo o vivo per risolvere i miei problemi, perché se vivo per risolvere i miei problemi è un problema. Vi faccio un esempio finanziario, ragazzi, perché magari non ve ne rendete conto. Questa è una cosa che io dico sempre a tutti. Se tu vai a lavorare e vai per lo stipendio, no? E fai una cosa che più o meno ti piace, eh? Ma ci vai per lo stipendio e voi state dicendo all'universo che siete poveri. siete quindi, in quel momento siete schiavi del denaro che ha un potere su di voi. Cioè, se io non vado a lavorare, non prendo i soldi, se non prendo i soldi non posso pagare l'affitto e non posso mangiare e quindi muoio. quindi stai trascurando la tua vita. Quindi, ragazzi, vi do una una triste notizia. Avere uno stipendio, lavorare per lo stipendio non è cosa buona. Non è cosa buona per chi vuole essere felice, eh? Ovviamente. non è cosa buona per chi vuole essere libero, ovviamente. Perché state dando potere al denaro? E allora, Isaia, cosa facciamo? Oh, venite con me. Venite con me. Lunedì sera io faccio una diretta, una diretta, faccio una zoom, ok? Dove vi faccio vedere come si può generare, come si possono guadagnare tanti soldi, avere il tempo libero, facendo ciò che amiamo, da casa, oltretutto, cioè, dove, insomma, avere, dove vogliamo, ecco. Quindi, c'è già la, c'è la soluzione, però vedete, io mi apro alla soluzione se prima faccio pulizia delle mie paure. E questo vale anche per le relazioni, no? Quindi questo bisogno spasmodico della gente di avere una relazione, per esempio. Io c'ho 42 anni, sono singolo ormai da 3-4 anni, e arrivavo da relazioni un anno, sì, un anno, poi un anno, quindi roba, poche cose, no? Secondo voi sono infelice? È ovvio che avere bellissime relazioni è meraviglioso, ma stare bene da soli e non avere relazioni tossiche è altrettanto meraviglioso. Io non ho bisogno per forza di avere relazioni. Cosa vuol dire? Che non ho paura di stare da solo, non ho paura, non ho bisogno che qualcuno mi ami, ecco, diciamo così. È bello essere amati, però non è un bisogno, perché io sono amore, coscienza cristica. Allora, Piera dice da un anno che cerco di capire perché ho gli acufeni, che cerco di capire cosa vuol dire comunicarmi il mio corpo, spero che sia la stata giusta. Allora, Piera, molto semplice, devi sempre chiederti se stai amando la tua giornata, cioè durante la giornata, io, tipo, se facessimo una consulenza privata, ok, potete anche chiedermela se volete, se facessimo una consulenza privata, io in cinque minuti individuo il tuo problema. Cinque minuti, perché tanto ormai capito che noi, ragazzi, a volte vengono magari da me le persone che mi dicono eh, c'ho male lì, c'ho male là, dico, perfetto, sei felice con tuo marito? No, e allora, cioè, ragazzi, la vita è semplice, se tu vivi in casa con una persona che ti sa sulle balle, è ovvio che hai problemi di salute, problemi mentali, quindi è inutile prendere le medicine, per quello dico. Isa, proprio oggi ho detto no ad un lavoro da dipendente, bravissima, facendomi felice, esattamente, sì, no ragazzi, io parlo a voi perché ovvio che non mi posso rivolgere agli italiani che mi prenderebbero per un pazzo totale, mi metterebbero in galera domani mattina, ok? Però a voi che siete all'uscita da Matrix queste cose le posso dire, ok? A voi le posso dire. Non c'è nulla di sbagliato, ragazzi, ma cos'è di scelte? Lo sappiamo, cioè, se io voglio essere felice, io so che devo ricercare l'amore, cioè, io per esempio in questi giorni, no? A volte chiedo alla mia coscienza cristica, perché io sono Isaia, io sono l'uomo, poi ho la mia coscienza cristica, che è un essere spirituale molto più saggio di me, e quello che stiamo facendo è cercare di diventare una cosa sola. Quando io gli chiedo ho fatto bene a fare quello, è giusto che faccio quello, sapete cosa mi dice sempre la mia coscienza? Lui mi fa così, ama, fai ciò che ami, cioè, non mi frega niente, fai ciò che ami, ti fa essere bene, ma sappi che non è quello che ti porta risultati. Allora, Piera, per avere una consulenza privata mi devi scrivere in privato, scrivimi in privato su Messenger e ti dico le modalità. Ti dico però già che ha un costo, ovviamente. Ragazzi, il costo chiaramente io le cose le metto a pagamento, questo per esempio è una cosa gratuita che sto facendo con voi per il semplice fatto che io amo anche l'aspetto economico, cosa che dovreste fare anche voi tra l'altro, quindi amo sì donare e amo anche ricevere soldi, quindi faccio tutto ciò che amo. Se tu dici io però non amo darti soldi dico va bene, non abbiamo trovato l'incastro, capite? no ma io da te voglio tutto gratis, va bene, è una tua scelta, ma non ora non abbiamo trovato l'incastro, quindi io chi voglio? Voglio persone che mi dicono io amo, io Iseia amo darti soldi perché ti voglio ringraziare e amo da te ricevere la tua consulenza o abbiamo trovato l'incastro. Per la conferenza Zoom scrivetemi in privato o su Whatsapp 349 544 3533 o su Messenger o su i miei messaggi privati Facebook, Instagram, eccetera. Quindi lunedì vi faccio vedere come guadagnare tempo e denaro amando se stessi e gli altri. È la cosa più bella che possiamo fare perché tra l'altro lo facciamo insieme. Siete aiutati, siete guidati, siete ispirati. L'unico ostacolo che avete è quello sono due come sempre. le vostre paure quindi la vostra coscienza e i soldi. Non ho soldi da investire, non ho i soldi da spendere per questa cosa. Diciamo che poi le motivazioni sono sempre queste qua. Quindi quando io sento questo dico ok Isa perfetto la gente non è in Cristo perché una persona che dice sì mi piacerebbe ma non ho i soldi è una persona che ragiona da povera. ma se questo strumento ti permette proprio di risolvere di fare l'esperienza della ricchezza allora vuol dire che non sei pronta per fare l'esperienza della ricchezza. Ecco una cosa importante è questo che il progetto che io offro la via che io offro non è per risolvere i problemi ma è per accedere a qualcosa che ami. Guadagnare i soldi in modo che ami guadagnare tutti i soldi che ami avere relazioni che ami e avere una salute che ami cioè avere una vita che ami. Ok? Mi rendo conto che molte persone sono impaurite e quindi in questo momento no 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 io devo risolvere immediatamente da qui domani mattina il mio problema. No. Sei già morto se parli di questo. Non è proprio non è la coscienza non è l'approccio giusto. L'approccio giusto invece sapete qual è? È questo. Ho una vita che non mi piace soffro forse è perché non ho ancora deciso di vivere una vita che amo capite? Capite qual è il giusto atteggiamento il giusto approccio? Se ho una vita di sofferenza è solo perché non ho accettato di meritare una vita che amo punto. A quel punto scegliere Global Revolution che è quello che io propongo è allora per tumori operazioni chirurgiche e malattie per tumori operazioni chirurgiche e malattie più gravi nemmeno lì niente farmaci ragazzi io non sono un medico non vi sono qui per dirvi cosa dovete fare io vi posso dire io Esaia cosa farei io Esaia ma zero proprio cioè se domattina mi trovano un tumore per assurdo ma quali farmaci? ma non esiste ma figuriamoci è un'opportunità per imparare a essere felice se tu sei felice il tumore ti guarda lontano e dice oh cazzo ma quello non manco ma avvicino ma figuriamoci sapete cosa fa il tumore? il tumore va dalle persone tristi andiamo là ma non lo fa per male lo fa perché deve stimolare in quell'individuo ok la gioia la voglia di vivere le persone malate amici miei sono persone che non hanno voglia di vivere magari gli è andata male una relazione magari è morto qualcuno magari non hanno un lavoro che gli piace capisci? a quelle persone vengono i tumori anche quelle cose lì è una questione di coscienza di stato d'animo quindi non lo vado a risolvere coi farmaci che non ne risolvono nulla ma vado a decidere di avere una vita che amo questo sì quindi in quel caso anzi sempre la malattia è un'amica che ci sta semplicemente dicendo stai amando la tua vita? stai amando la tua vita? sì o no? stai facendo qualcosa che ami durante la giornata? hai delle relazioni che ami? hai un reddito che ami? hai un fai qualcosa col corpo che ami? sì o no? no? perfetto vuol dire che sei triste se sei triste io malattia arrivo da te dopo la malattia se non l'hai capito nemmeno con la malattia arrivo con la morte e arriva la morte con la mannaia ti rincarni e ricominci il processo quindi volete la mia? non è che le medicine non servono o le terapie non servono dipende dalla tua coscienza dipende da cosa tu vuoi dalla vita e ci sono persone che dicono no ma a me piace andare dallo psicologo a me piace prendere i medicinali e che gli vuoi dire? niente io non posso convincere ragazzi le persone non possono essere convinte delle cose ognuno è felice per quello che fa fine io Isaia ho risolto delle cose che all'ospedale mi hanno detto rischi di morire se non ti operi e ho detto no risolvo da solo e ho risolto da solo e non mi sono fatto operare a tante altre persone invece gli hanno tolto la cistifellea a me non l'hanno tolta io ho risolto da solo perché era uno stato di coscienza era una condizione emotiva quindi avete visto com'è semplice? ora la coscienza cristica va sviluppata si può sviluppare ok non è una cosa che fai dall'oggi al domani perché io stesso non è una cosa che faccio dall'oggi al domani è un percorso è un viaggio diventa è un'esperienza continua ok quindi cos'è global revolution isei ha creato global revolution questo anzi principalmente due cose lo sviluppo della coscienza cristica con le nostre meditazioni le nostre accademie le nostre riunioni che facciamo in zoom e poi c'è la parte materiale quindi abbiamo un'attività professionale ok chiamiamola attività professionale chiamiamola così bisogna dargli il nome giusto che ci permette di avere il risvolto materiale quindi anche qua non è che Isaia semplicemente vi dice venite da me e imparate e poi andate come fanno tutti i formatori in Italia che vi fanno fare i corsi e poi adesso andate io invece vi dico venite con me fate i corsi e poi rimanete con me Isaia wow ho fatto l'accademia mi si è aperto un mondo circa il denaro adesso come faccio a guadagnare? rimani con me perché global revolution ti dà la macchina per generare reddito no troppo bello troppo geniale ci voleva un genio per fare una cosa del genere ragazzi io sono un genio di quelli di geni che ne nascono uno ogni tanto sono molto di più come tutti noi siamo molto di più ok io sono Dio io sono il tutto io sono l'essere più geniale del mondo io sono l'uomo più ricco del mondo io sono la vita eterna io sono l'uomo più amato del mondo io sono tutta la ricchezza infinita che esiste nell'universo sentite la mia coscienza come parla? ecco questo è lo sviluppo della coscienza cristica e sviluppando questa coscienza che la tua realtà comincia a plasmarsi a trasformarsi io non agisco per risolvere i miei problemi agisco per sviluppare la coscienza cristica io sono infatti la coscienza cristica è la coscienza dell'io sono cosa vuol dire io sono? io sono io sono ricco io sono amore io sono la vita eterna questa cosa per amici miei la dovete se volete alimentare non basta vedere il video su youtube non basta leggere il libro non è che vi dico queste cose perché voglio vendervi le mie cose è un dato di fatto qui in live ci sono delle anime che stanno facendo il percorso con me che hanno pagato raga c'è differenza loro possono testimoniare quello che sto dicendo possono testimoniare come le accademie la meditazione gli ha cambiato la vita e voi potrete poi guadagnare anche voi con i miei servizi questa è l'enorme differenza tra Isaia e tutti gli altri formatori e guru che ci sono in giro che voi potete guadagnare con i miei servizi miei nostri la creati Dio ragazzi visto che non avete più domande o cose da che volete aggiungere niente allora quindi due cose prima cosa la coscienza cristica è la chiave di tutto è l'unica via possibile per la felicità la potete sviluppare per svilupparla dovete frequentare qualcuno che è in coscienza cristica noi abbiamo come Global Evolution dei servizi di frequentazione ok l'altra cosa lunedì invece guardiamo più la parte business quindi lunedì sera in zoom chiedetemi il link in privato come guadagnare tempo e denaro amando se stessi e gli altri quindi chiaramente le cose sono collegate ovvio non è un'altra cosa e parliamo di come guadagnare ma è ovviamente legato alla coscienza cristica è ovvio ok e vabbè quindi ragazzi so che in questo momento in Italia sono ascoltato da pochi no però sono anche così felice di quello che io sono di quello che sto proponendo che so che questa verità arriverà al mondo intero ma di questo ne sono convinto al 100% quando il mondo è nel buio e secondo me in questo momento siamo veramente in un forte buio spirituale economico finanziario di salute buio è anche di forte inganno ovviamente perché in questo buio ci sono tanti squali che stanno ciucciando a più non posso alle povere anime ormai che va bene anche questo è perfetto perché così o meno le anime capiscono che dopo aver buttato un sacco di soldi e un sacco di energie e la loro vita non è cambiata forse devono capire che non è facendo così che cambia la tua vita ecco sì Piera frequentazione anche a distanza noi siamo un gruppo che lavoriamo online ma anche ah ecco domenica lo dico per chi volesse a casa mia in provincia di Torino a Pinerolo tengo un meeting quindi su come guadagnare te per denaro amando te stessi e gli altri a casa mia tengo un meeting ingresso libero massimo 12 posti ma già 4-5 sono prenotati quindi se volete venire dovete un attimo fatemi sapere io vivo in provincia di Torino Melissa si sia in Germania va benissimo anche noi lavoriamo online anche durante la settimana domenica domenica io faccio la presentazione a casa mia con delle persone ma faccio anche la diretta su zoom faccio anche la diretta su zoom però non per gli ospiti esterni solamente per voi membri di Global Revolution mentre lunedì la dedichiamo solo proprio per gli ospiti esterni ma online ok e quindi io vi dico una cosa per quanto mi riguarda io ho smesso di combattere ho smesso di lottare perché ho visto che per uno come me lottare non gli fa bene perché non è la mia natura seppur l'ho fatto per tanto tempo o in alcuni momenti a me viene la mia via è quella del Cristo cioè quella di essere consapevole di essere amore di essere ricchezza di essere la vita è semplicemente di come un sole illuminare ecco il vostro proposito dovrebbe essere esattamente questo divenire Cristo divenire il sole divenire Cristo che aiuta gli altri questo è questa è la rivoluzione questa è la nuova rivoluzione che adesso sta nascendo non ce n'è un'altra non ce n'è un'altra da non confondere con tanti life coach che si stanno improvvisando dalla mattina alla sera senza amore senza aver fatto un percorso reale ok e lo fanno per un discorso per un bisogno egoico ok però va bene anche quello vuol dire che ripeto sapete per riconoscere la verità è molto importante che ci sia tanta falsità in modo che l'anima dopo aver sbattuto ok tan 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 dice guarda le ho provate talmente tutte che effettivamente forse l'unica via che mi rimane è Isaia quindi è bene che ci siano tante in questo momento tante vie devianti se una volta la religione cristiana era l'unica via che deviava l'essere umano adesso su internet è pieno infatti io li chiamo i nuovi preti no per me sono tutti nuovi preti che sembra sembra che ti dicano la verità però tu puoi fare i conti anche poi alla fine dell'anno cioè alla fine dell'anno io ho migliorato la mia vita perché io ragazzi qua dentro ho delle anime delle persone che frequentano global revolution e concretamente hanno cambiato la loro vita cioè concretamente non vogliono più frequentare certe cose mangiare certe cose hanno aperto la loro mente il loro cuore alla ricchezza al denaro quindi ci sono i cambiamenti concreti ma nel giro di poco ok noi per esempio abbiamo ecco una cosa che potreste fare siccome questa sera abbiamo parlato di meditazione di coscienza cristica è chiedere in privato come acquistare la meditazione della coscienza cristica costa 30 euro ok vi fate l'esperienza questa meditazione che voi ce l'avete poi per tutta la vita la potete fare tutti i giorni ok questa meditazione vi aiuta ad attivare la vostra coscienza cristica vi aiuta fatevi questo regalino tanto amici miei vi fate regali in continuazione su qualsiasi cosa fatevi questo regalo 30 euro però vi può cambiare non dico che vi cambia la vita ma già vi cambia il modo secondo me è l'inizio è come un granello di luce che può veramente aprirvi poi a una nuova vita io la meditazione l'ho fatta perché è molto breve dura 15 minuti è molto intensa è molto emozionante quindi va subito a comunicare con la tua anima ecco questa è una cosa bella che potreste fare per esempio quindi magari qualcuno può dire non lo so sono un po' scettico fatevi l'esperienza della meditazione se volete però risolvere i vostri problemi no se invece dite io ho i problemi della mia vita io ho i problemi ma ho capito con le parole di Isaia che non devo pensare ai miei problemi ma probabilmente devo pensare a godermi la vita ecco la meditazione è un'esperienza di godimento che però vi aiuta a stare meglio concretamente ecco quello che noi dovremmo imparare a fare è che il piacere può essere un'esperienza di evoluzione ecco questa è una cosa interessante il piacere può essere un'esperienza di evoluzione il piacere è legato al femminile e oggi in Italia ce n'è molto poco di femminile legato al piacere del momento presente no il maschile invece è lo sviluppo la crescita matrimonio questo matrimonio la mia giornata deve essere fatta di godimento da quando mi sveglio quando vado a dormire godimento e crescita godimento e sviluppo fate un lavoro che non vi piace pensateci molto bene potete cambiare questo paradigma adesso potete cambiare questo paradigma adesso secondo me voi dovesse fare questa cosa qua allora io considerate che la figura di Gesù fino a un anno fa manco me ne fregava niente però adesso non vi sto a dire perché mi è arrivata nella mia vita tutte le coincidenze che io ho con la figura di Gesù ci sarebbe da fare una diretta live a parte su questa faccenda che avrà un'evoluzione probabilmente chiedetevi chiedetevi sempre ma come si comporterebbe Gesù in questa situazione Gesù come si comporterebbe e trovate la risposta non volete usare la parola Gesù cosa farebbe l'amore l'amore andrebbe a fare cosa farebbe un bambino andrebbe a fare un lavoro che non gli piace per guadagnare soldi no questo lo fa lo schiavo ma voi volete fare gli schiavi la vostra vita è questa fare gli schiavi siete esseri umani avete la coscienza cristica avete solamente ce l'avete già qua tra l'altro è un anello dorato qua è come un disco dorato che l'occhio non lo vede ma c'è no cosa è la coscienza cristica qua solo che se non la usate lei è lì parcheggiata è come avere 10 milioni in banca e non andare a usarli è uguale uguale la coscienza cristica è uguale è come avere 10 milioni di euro in banca e non usarli non andarle a prelevare perché non lo sapete ecco usatela usatela è uno strumento che vi è stato donato usatelo bene pensi di avervi detto tutto scusami purtroppo non riesco a seguire bene perché il visto la meditazione è soggettivo o si fa in gruppo? no la meditazione è un video quindi tu hai accesso a un link video e la fai dove e quando vuoi per i fatti tuoi quindi io l'ho preparata prima l'ho messa su youtube come video privato e hanno accesso solo coloro che la pagano allora cari amici quindi ci vediamo chi vuole domenica a casa mia chiedetemi informazione domenica pomeriggio per il gruppo invece ci vediamo online domenica mentre per tutti gli altri ci vediamo lunedì sera alle ore 21 come guadagnare tempo e denaro amando se stessi gli altri allora su come guadagnare denaro amando se stessi gli altri voglio dirvi una cosa non è un'attività lavorativa cioè se qualcuno di voi ama il lavoro che sta facendo però dice però comunque io voglio guadagnare di più mi piacerebbe voglio avere più soldi perfetto perché quello che facciamo noi per me non è un lavoro veramente ragazzi cioè è un modo di guadagnare legato solamente a non so non so alla condivisione ma ripeto non ci sono orari di ufficio vincoli obblighi è proprio un altro modo di guadagnare soldi ecco allora Melissa dice non possiamo lavorare tutti online e predicare oppure cercare i tuoi sudditi potresti essere più chiaro per favore non possiamo lavorare tutti online e predicare oppure cercare i tuoi sudditi lavorare online e predicare non si tratta di questo quello che penso che stai parlando del discorso del guadagnare dovete immaginare una cosa che quello che io vi offro come metodo di guadagno è convertire quello che già fate in un qualcosa di costruttivo basta cosa vuol dire che tutti voi avete uno due o tre persone che conoscete dove parlate di più o meno di quelle cose giusto dovete semplicemente iniziare a parlare di queste cose queste cose cosa se amate queste cose se amate voi stessi se amate la vita se amate la ricchezza se amate la 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 conoscenza se amate la coscienza se amate l'universo cioè se amate l'età dell'oro il nuovo mondo è una cosa che esplorate dentro di voi e lo volete condividere con gli altri basta non è un lavoro è una gioia come quando vado a vedere un film al cinema che mi piace ne parlo con gli altri come vado faccio un'esperienza in una vacanza ne parlo con gli altri ecco io quello che propongo è questo sarà bella la vacanza quando tu vuoi perfetto ne parli con gli altri benissimo la vacanza ti paga no zero giusto perfetto io penso ci sia qualcosa di un po' più bello di una vacanza al mare che è il mistero dell'essere umano che è quello che noi trattiamo cioè chi è l'essere umano chi è chi sono io veramente ecco questa è la scoperta no provoca delle emozioni provoca delle guarigioni ok è un viaggio meraviglioso bellissimo ovviamente devi essere non dico portato ma devi avere questa scintilla divina no una volta che fai questo viaggio e lo condividi e gli altri dicono wow madonna mia ma che bella luce ecco questa è una testimonianza che mi danno sempre le persone che sono con me no gli altri mi dicono che è una bella energia che è una bella luce certo perché quando fai questo percorso di attivazione della tua luce gli altri lo vedono come hai fatto? qua ho pagato 700 euro 300 euro 400 euro quello che è ho avuto accesso a questi servizi a queste esperienze e la mia vita sta migliorando basta questo è quello che facciamo poi puoi farlo facendo 300.000 video su internet facendo una riunione con una tazza di te con le tue amiche a casa tua puoi tanto comunque noi ragazzi ci relazioniamo tanto vale relazionarci per qualcosa che amiamo così ci guadagniamo anche i soldi questo è il concetto tutti ci relazioniamo per qualsiasi cosa durante la giornata ma tanto vale anziché servire il sistema e parlare del sistema e far arricchire sempre gli altri ma tanto vale parlare di noi dell'essere umano di Dio della mia anima tanto vale condividere questa cosa qua che è molto più costruttiva che ci fa bene alla salute che ci fa bene allo spirito e ci fa bene anche al portafoglio non so come altro dirlo perché è così è così Isaia che è il mio nome vuol dire Dio è salvezza questa è la salvezza ovvio che io ti do questo questa novità tu devi coglierla ovviamente perché l'amore la ricchezza la libertà nessuno può regalarcela questa è una favola questa è una favola occhio occhio le favole sono belle ma quelle che crei tu la tua vita è una favola non le favolette che raccontano non ti preoccupare non fare niente ci penso mi ci penso io non ti preoccupare fammi un bonifico non ti preoccupare io ti dico fammi un bonifico ma la vera spesa non è questa la vera spesa che voi dovrete dovreste fare che dovrete fare con me ragazzi non sono i soldi è lasciare relazioni tossiche lasciare pensieri tossici lasciare emozioni negative situazioni che non vi portano da nessuna parte questo è il vero sacrificio che dovreste che dovrete fare lascia tutto e seguimi troppo faticosa pace all'anima tua pace all'anima tua e che problema c'è mica devi fare felice a me io ti soffrendo una via Morpheus Matrix io ti posso indicare la soglia sei tu quello che la deve attraversare comunque se volete poi delle informazioni complete venite lunedì sera che vi spiego tutto è gratis costa nulla prima di iniziare un percorso di felicità dovreste fare una cosa io merito di essere felice io merito di essere felice dovreste scegliere questo sapete che cos'è si chiama amore per se stessi amore per se stessi non è speriamo che con Isaia io sia felice questo è un grave errore che hanno fatto tante persone con me speriamo che con Isaia che col percorso di Isaia poi vedano che non funziona e vanno da altri non perché gli strumenti che io ho dato non funzionano ma perché hanno avuto un approccio scorretto ai miei strumenti voi la decisione di essere liberi e felici dovete prenderla prima di iniziare con me non so se capite allora io siccome mi amo voglio essere libero voglio essere libera e allora comincio un'attività con Isaia e allora mi unisco a Isaia non siccome io voglio essere libera e allora mi unisco a Isaia perché voi avrete sempre l'aspettativa su di me e sul mondo esterno quindi parte da una vostra decisione interiore se voi volete decidere non dovete amarvi per quello vi aiuto io in quello non dovete arricchirvi vi aiuto io in quello ma dovete deciderlo se lo decidete andiamo d'accordo io ragazzi voi non potete immaginare dei doni meravigliosi che io vi darò non potete e i ragazzi del gruppo lo sanno quante cose io sforno io l'anno scorso ragazzi ho fatto una cena a Torino ho organizzato una cena di gala in un castello a Torino con la musica di Harry Potter sembrava di essere in un'altra dimensione costo 100 euro 100 euro che comprendeva la cena più l'esperienza cena di gala con i tavoli tutto apparecchiato bellissimo l'albero di Natale io ero col mantello voi di quello non vi dovete proprio preoccupare perché io mi diverto a creare delle situazioni da sogno ragazzi io ho in mente le cose pazzesche io voglio comprare un castello per esempio per fare lì le conferenze le accademie tutti insieme ridere felici mangiare bene che evolviamo che ridiamo che scherziamo voi non vi questo non vi preoccupate io ho delle idee meravigliose l'unica cosa che voi dovete fare è decidere io decido pillola rossa o pillola blu pillola rossa perfetto vieni hai deciso adesso ci penso io non ti preoccupare aiutati che Dio ti aiuta quando ecco quando io decido una cosa e la decisione è una cosa fondamentale perché è proprio un cambio di coscienza esempio a me sapete quando è cambiato l'aspetto finanziario in me quando è stato un giorno che mi sono messo a piangere tantissimo perché avevo perso gli ultimi soldi che avevo in tasca facendo trading online queste boiate qua ho detto io ho deciso io devo essere ricco è lì che mi è cambiata la vita a livello economico la decisione la decisione è un momento che dura un istante è come se fai un cambio di coscienza al resto non vi preoccupate ci pensa Dio l'universo ci pensano gli altri ma io non posso Isaia aiutarti a guadagnare se tu non vuoi diventare ricco e non posso perché io ti dico ascolta fai quello eh non c'ho voglia eh qui è difficile eh queste sono le scuse di uno che in realtà sta ancora decidendo di essere povero quest'anno la vorrei rifare sinceramente l'anno scorso l'abbiamo fatta proprio il 16 dicembre sotto Natale io quest'anno la voglio rifare ma la la rifaremo però vi dico una cosa ragazzi la festa del castello non è aperta a tutti la festa del castello è aperta per chi ha fatto almeno l'accademia con noi vedi Melissa anch'io volevo comprare un castello vedi che noi anime siamo sincronizzate adesso vi apro un'altra finestra ragazzi anche questa cosa qui buono è tutto è tutta un'americanata oggi è tutta un'americanata è tutto è tuoi problemi tuoi problemi contatta tizio che ti risolve la tua vita io ragazzi ho un'altra ho una visione molto bella secondo me vi dico come la penso io come la vedo come la so noi siamo tutte anime separate che vogliono riunirsi in un unico progetto per creare un nuovo mondo cioè questa cosa qui per esempio l'avete mai sentita dire se ne parla no ormai tu hai i tuoi problemi contatta il guru per risolvere i tuoi problemi fine tutti i life coach tutti i mental coach da qui i prossimi anni saranno tutti i mental coach tutti i mental coach infatti io dico ma se fra tre anni saranno tutti i mental coach da chi cazzo va cioè tutti i mental coach quindi vuol dire che non ci saranno più pazienti perché sono tutti i mental coach no questo perché si sta accentuando l'atteggiamento egoico io vendo a te una cosa punto fine basta io ho in mente invece un'altra cosa secondo me invece noi anime dobbiamo e possiamo unirci per fare qualcosa insieme wow nell'amore nella salute nella ricchezza questo è il mio sogno che c'ho da ma sapete ragazzi da quanti anni io lavoro a questo progetto da duemila da qui sulla terra da quattordici anni eh anzi più di quattordici anni quindici anni più o meno quindi c'è sedici anni forse io sono sedici anni che vado avanti con questo con questo con questo sogno eh fare qualcosa insieme che ci porti salute ricchezza e coscienza eh per questo che io faccio le riunioni in zoom con le persone per quello che ho un progetto non si parla più la gente non ha più progetti non si parla più di progetti ma no io ho un problema sfoglio l'internet ah questo parla di risolvere i problemi con le relazioni ciao senti vuoi risolvere i problemi con le mie relazioni quanto costa? eh costa 500 euro a seduta ok perfetto ma funziona? sì sì funziona oggi è questo il mondo è ridotto a questo io ho un'altra visione io ho la visione dell'unità l'unità delle anime che si riuniscono ma non che si riuniscono per andare a vedere non voglio fare nomi a Rimini a Parma la star della crescita personale che incassa in quella giornata 850 milioni di euro brava grande wow e poi ognuno torna a fare la sua vita questo è il mondo nuovo questa è la rivoluzione che tra l'altro questa persona ha chiamato pure l'evento revolution c'è la sua revolution prima era svoltiamo è la sua svolta io vedo una cosa molto più importante molto più etica molto più grande tutti abbiamo il diritto alla ricchezza tutti tutti possiamo ambire a diventare milionari tutti non solamente il formatore che alla fine tanto ragazzi questi formatori danno le pere di saggezza alla fine ma c'è ma che danno chissà quale svolta ecco però è sempre il concetto del legato che qualcuno mi deve salvare e quindi loro sono ecco loro sono dei bravissimi venditori questo chapeau tanto di cappello sai venderti a chi si fa comprare però a chi compra vendono a chi compra perché già già un'esaia prima che esaia gli tiri fuori dalle tasche mille cento euro cinquecento mille euro mi chiami devi presentare un progetto della madonna cioè non è che basta che mi dici vieni al mio evento perché ti insegno la crescita personale esatto rosa fare qualcosa insieme nell'amore questo è fare qualcosa insieme nell'amore che ci porti amore consapevolezza coscienza ricchezza libertà ragazzi però questa cosa io vi dico che la possiamo fare solo se siamo insieme ecco perché io sono partito da solo poi siamo in due poi siamo in tre poi siamo in cinque poi siamo in dieci per quello che io ho sempre creato ho creato gruppi di lavoro perché ho sempre cercato di condividere questa idea solo che io non ero pronto all'epoca ancora non avevo la coscienza che ho oggi non avevo neanche gli strumenti che ho adesso però il progetto è sempre quello però chi c'è adesso devo dire che è super contento di quello che sta vivendo e noi vogliamo non è che vogliamo crescere noi crediamo nel fatto che è giusto che ci che tutti abbiano diritto alla consapevolezza a divenire Cristo alla ricchezza alla libertà alla saluta alla vita eterna e di queste cose ragazzi fuori da questa zoom fuori dalla mia pagina facebook non ne sentirete mai parlare perché sono tutti quanti in anticristo tutti dal primo all'ultimo sono sotto l'energia dell'anticristo eh ragazzi lo devo dire così e ripeto è un bene è un bene perché vuol dire che almeno possiamo riconoscere qual è la via giusta franco chiede cos'è l'amore oh sai che ho fatto un'accademia sull'amore nove ore dopo in nove ore ho spiegato ai partecipanti cos'è l'amore e non è quello che voi conoscete è una cosa molto più importante l'amore va a pari passo con la parola verità e va a pari passo con la parola libertà pensa un po' chi è nell'amore è nella verità e vuole essere libero chi è nella verità molto probabilmente avrà tanti nemici ma come se è nell'amore e hai tanti nemici è certo perché chi è nell'amore è nella verità perché ama se stesso in un mondo dove tutti invece non amano se stessi ma devono fare i favori agli altri quindi chi ama se stesso è visto male quindi l'amore è un'energia salvifica l'energia più potente che esista l'amore è quell'energia capace di compiere qualsiasi tipo di miracolo l'amore per esempio è quell'energia che fa funzionare le leggi universali quindi quelle persone che parlano di la legge di attrazione le leggi universali è amico mio ma se tu non hai l'amore per te stesso non è l'amore verso gli altri le 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 me le 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 la legge di attrazione non funziona le le leggi universali non funzionano perché l'amore è la benzina l'amore è la l'energia che muove che plasma tutto l'universo è un'energia non ha una coscienza è proprio un'energia cioè è una cosa pazzesca però è un'energia che va vissuta ecco, va vissuta Dio ha fatto tutto secondo questa energia ovviamente, quindi ha fatto tutto con amore per amore e dall'amore ed è quello che la nostra vita dovrebbe essere vissuta in questa funzione io vivo la mia vita con amore per amore ed è guidata dall'amore quindi se io durante la giornata faccio un lavoro che non mi piace non mi sto amando quindi io non sono nell'amore quindi se non sono nell'amore sono nella paura paura, falsità, schiavitù tutte nella scatolina amore, libertà, verità vanno nell'altra scatolina sono tutte insieme, sono tutte collegate ecco perché io vi parlo lo so che vi sembra difficile che Isaia parla un po' di Cristo un po' di ricchezza e un po' di salute ma in realtà sono sempre queste tre cose perché queste tre cose relazioni, denaro e salute anche se Matrix le ha scollegate in realtà sono connesse proprio lì il segreto il fatto di averle scollegate ha reso l'essere umano schiavo se tu le colleghi diventi libero perché dici però effettivamente è vero perché se io ho buone relazioni ho più probabilità di generare ricchezza pensateci i soldi sono molto legati alle relazioni la salute se io ho soldi posso avere il tempo libero io per esempio ragazzi passeggio un'ora un'ora dura al giorno nella natura se ho soldi posso fare esperienze di salute e la mia salute è da cose determinate spesso dalle relazioni vedete relazioni le nostre salute sono sempre connesse tra di loro sempre questo è il segreto quindi Global Revolution chissà perché Global Revolution ti aiuta in tutte e tre noi non abbiamo prodotti per la salute perché noi partiamo dalla salute spirituale che si ripercuote nel corpo quindi Global Revolution ti dà gli strumenti per vivere collegare queste tre cose per collegarle infatti noi siamo un'azienda di network marketing il network marketing cosa comprende? relazioni e ricchezza tempo libero anche lo so amici sono tante informazioni sono tante cose però una volta che hai il puzzle completo è finita lì io per esempio già stasera vi ho parlato praticamente alla fine di tutto quello che facciamo quindi non c'è altro ecco l'altro poi in realtà è una fase successiva dell'attivazione degli altri cinque chakra si arriva all'attivazione della corona coscienza cristica fatto quello che i chakra sono allineati si attivano poi gli altri cinque che in realtà sono dodici e quello ci permette di sviluppare il teletrasporto la telepatia la manifestazione istantanea degli oggetti la bilocazione quella poi è una fase dopo che abbiamo sviluppato l'amore e che ci siamo liberati dal matrix dopo c'è quella fase di gioco io ho fatto una zoom che ho reso pubblica su youtube dove ho parlato di questo della fase successiva all'uscita da matrix l'altra metà al lavoro ok io passo mezza giornata in natura l'altra metà al lavoro perfetto augurandomi che il tuo lavoro ti piaccia e che ti dia soddisfazioni gratificazioni personali ed economiche a tal punto da poter fare tutto ciò che desideri potenzialmente per esempio io faccio network marketing perfetto ok magari sto mese guadagno ho guadagnato 300 euro ma l'attività potenzialmente mi può far guadagnare 300.000 euro al mese quindi anche qua ragazzi assicuratevi di avere comunque un'attività che sia alternativa mettete quello come volete che potenzialmente vi possa portare tanti soldi perché se no che senso fare una vita che dà 1000 euro al mese scusate ci sta per una fase ma dovreste avere dei sogni un po' più ambiziosi per fare molte più cose ecco va bene ragazzi abbiamo fatto un'ora e mezza vi ringrazio e niente ci vediamo lunedì sera per chi vuole e domenica pomeriggio se volete la meditazione scrivetemi in privato anche ok va bene spero di avrevi aiutato come anime siamo sempre connesse quindi questa è una connessione materiale ma in realtà le nostre anime sono sempre connesse quello che noi dobbiamo arrivare a fare è riuscire a vivere coscientemente quella connessione che viviamo già spiritualmente buonanotte a tutti e sogni d'oro e mi raccomando prendete buone decisioni